Buongiorno e bentrovati a questa nuova edizione della Rassegna Stampa di sabato 26 giugno. Iniziamo quest'oggi dal Corriere delle Alpi. In prima pagina il titolo principale Commercianti e opposizioni contro il caro Tari. Coro di no agli aumenti in bolletta, attacchi anche dal capogruppo PD. L'Ascom chiedeva sconti per i negozi. È stato davvero un brutto tiro. Sintetizza il Corriere delle Alpi. È una scelta politica che lascia perplessi e che segna la distanza tra l'amministrazione comunale e i cittadini. È dura la posizione dei gruppi di minoranza nei confronti della decisione di aumentare le tariffe dei rifiuti a tutte le categorie produttive e alle famiglie. La comunicazione è arrivata durante l'ultima commissione consigliare di Belluno, ma in maniera non chiarissima. Protestano anche i commercianti, soprattutto il comparto alimentare, che è il più colpito dalla manovra. Mastica Mara Lascom, che aveva chiesto a tutti i comuni addirittura uno sconto in bolletta, vista la crisi che la leggia. E da questa notizia, che arriva dalla città capoluogo, passiamo alla fotonotizia scelta per oggi dal Corriere delle Alpi, che riguarda il cristallo di Cortina, che va all'inglese a Testor. Lavori per 30 milioni. Un'icona 5 stelle, nido del jet set mondiale. E c'è anche una descrizione di quella che è la realtà e che è stata la realtà del cristallo di Cortina, presentato in una bella fotografia invernale. Andiamo all'interno del Corriere delle Alpi. Le prime pagine sono dedicate alla emergenza sanitaria, i timori di Draghi, non ripetiamo gli errori dell'estate. Il presidente del Consiglio, colpito dalla frenata inglese nelle riaperture, ha lo studio dell'Europa la possibilità di una terza dose di vaccinazione. 20.000 i contagi in Russia nelle ultime 24 ore. Soltanto a Mosca sono morte 600 persone. 1.604 il numero dei nuovi casi fatti registrare ieri in Portogallo. È la cifra più alta da febbraio. Ci sono quindi segnali che lasciano inquieti, ma la situazione per il momento in Italia sta migliorando. E dal CTS, il Comitato Tecnico Scientifico, è arrivato il via libera alla riapertura delle discoteche. In ogni caso, la sottolineatura dalla parte dell'Istituto Superiore di Sanità Italiano, l'ex indiana, la variante Delta, al 16,8% in Italia. Sono necessari sequenziamento e vaccini. Ora il turismo extra-UE fa paura e Berlino, Striglia, Cipro e Grecia. Nel Mirino i viaggi di inglesi, russi e cinesi senza quarantena. Il Green Pass non basta per escludere i vaccinati Sputnik. Questi sono alcuni titoli che danno l'idea del dibattito che si sta sviluppando in Italia, ma anche in Europa, sul tema della pandemia e in particolare sull'equilibrio da trovare tra ripresa, aperture e anche cautela per quanto riguarda la gestione della nuova variante Delta. Ma eccoci sulle pagine del Corriere delle Alpi che trattano della provincia di Belluno. C'è l'approfondimento di quanto abbiamo già visto in prima pagina riguardo all'aumento della Tari. Poi proseguiamo con altri articoli. La Lega chiede di istituire una zona economica speciale. Depositato in Senato un disegno di legge che prevede esenzioni fiscali per cinque anni. Il senatore Saviane comprenderà tutta la provincia. Invito gli altri partiti ad aderire. Tutti i contributi previdenziali e gli imposti sui redditi verrebbero azzerati. I classici e l'artistico sfotano centini. Due tra i migliori arrivano dai corsi serali. E in questo caso si tratta di una mezza pagina che il Corriere delle Alpi dedica ai risultati scolastici degli esami di maturità. Con risultati del liceo classico Tiziano, del liceo artistico Catullo e poi anche dell'Istituto Catullo BS. Le acrobazie di Alve al Grest 400 invisibilio all'Istituto Agosto. Si tratta di Alvaro D'Alfarra. Il campionissimo di motocross freestyle amalia i giovanissimi, ma il primo invito è stato a studiare e ad essere sempre prudenti. A scuola di solidarietà con Lassi, l'associazione sportiva che riunisce anche gli invalidi. Quando la diversità è ricchezza. Concluso il progetto alla scuola elementare di Chiesurazza e alla fine festa grande per l'incontro con Oscar de Pellegrin. Laureati e diplomati in fuga. Sistema economico a rischio. A uno spopolamento già pesante si aggiunge la mancanza di manodopera qualificata. Solo in Bergo, la Gordino è il territorio provinciale con maggior tenuta economica. L'area più in rosso è quella del Cadore, ma il lavoro cresce in altre zone. Questa è un'intervista proposta dal Corriere delle Alpi ad Aldo Solimbergo, già responsabile dell'ufficio studi e statistica in consiglio regionale. Il Nevegal piange Gianni Milan, ex gestore degli impianti. ABM, associazione bellonesi del mondo, eletto il nuovo consiglio. Oscar De Bona, il presidente uscente, è risultato essere il più votato. Andiamo ancora avanti, sempre sulle pagine del Corriere delle Alpi. Sciopero degli avvocati, adesione piuttosto alta. C'è stata l'astensione dalle udienze. Elena cerca famiglia, serve un affido a ore. Il nido chiude e la mamma ha problemi con il lavoro. La piccola ha due anni, ha bisogno di una stabilità. Di qui la richiesta del centro affido, rivolta a chi possa offrire questo sostegno a questa piccola bambina. Ed eccoci sulla pagina di Feltre. Un volume che diventa già riferimento per l'arte decorativa. Il riferimento è a una iniziativa relativa alla mostra dell'artigianato iniziata ieri. Presentato il catalogo della collezione Franzoia di Vetri, oggi prosegue l'esposizione. C'è anche un punto tamponi all'interno della mostra. Realizzato in collaborazione tra ULS e comitato organizzatore. Erogati 218 mila euro, oltre 600 assegnazioni, per i buoni spesa in comune di Feltre. Altri 23 studenti festeggiano il 100 e al Negrelli c'è la lode per Elisa. Anche in questo caso si tratta di un articolo che riferisce dei risultati dell'esame di maturità. Nuova informata di risultati al Colotti, al Dal Piazza e al Della Lucia con la sessione d'esami agli sgoccioli. Caterina Sofia Calabro ha scelto il suo futuro. Amo le arti, studierò alla Bocconi di Milano. Estate è tutta da ridere, configuriamoci. Oltre 30 spettacoli in 18 comuni di arte di strada. Si parte il 2 luglio e si va avanti fino al 4 settembre. Coinvolta l'Alta Trevigiana, il Feltrino e la Valbelluna fino a Ponte nelle Alpi. Santa Giustina, posto e chiuso un mese, l'azienda Replica, potenziato l'ufficio di Meano. Ed eccoci a Limana. Velox, la minoranza all'attacco. Usate i soldi per asfaltare. L'opposizione interroga sui proventi dell'apparecchio in funzione alla calle. In via Canalette e in via Roma la copertura presenta segni di cedimento. Chiesti lumi sui controlli di velocità anche per chi viaggia verso Tricchiana. A Tricchiana, Paese del Libro, pronto il programma di eventi. Sono 378 i lavori consegnati alla giuria guidata da Tiziano Scarpa. Tra gli ospiti Alessandro Marzamagno e Lucio Caracciolo. Un'estate con 80 eventi per sostenere il turismo in Alpago e Consiglio. Il consorzio punta a proporre momenti di richiamo in tutti i giorni della settimana. Vogliamo estendere le attività sportive e ricreative anche oltre i weekend. Ponte in condizioni difficili. Passerà solo un'auto alla volta. Siamo in Val di Zoldo e è stata apposta una segnaletica speciale sul ponte, sul Maè, in quel di Fusine. La Falcà delle Buse, la seggiovia per il San Pellegrino, domani riprende le sue corse. Un altro segno di ripresa, di ritorno verso la normalità. Ed eccoci ancora ad un altro articolo che riguarda i risultati degli esami di maturità. 300 elode alla quinta minerari, un'estate da operai. Poi l'università, in questo caso, si tratta di Agordo. Francesco Campanini e Luca Brancaleone non riposeranno. Uno si dedicherà allo sfalcio dei prati, l'altro farà il manovale. Sono 14 i ragazzi diplomati a punteggio pieno tra Agordo e Falcà. Gosaldo dello Mutibus, pronta ad allungare la corsa fino all'Ambroi. Ed eccoci a Cortina. Si stendono gli asfalti, ma mancano i movieri. E per salire a Cortina serve più di un'ora. La corrispondenza viene da San Vito di Cadore. Protestano i commercianti per un problema di ogni estate. Non si capisce perché qui non si possa operare di notte. Altri risultati relativi alla maturità, questa volta da Santo Stefano di Cadore. Daniel lode ai dei chiare. Me ne vado in Romania a studiare e a lavorare. Busa del Cristo, incubo finito. Ora la frana è sotto controllo. Ridotto con l'esplosivo il rischio idraulico di una potenziale ostruzione del boite. Il sindaco svaluto. Ora la messa in sicurezza. Poi gli sfollati torneranno a casa. Nei prossimi giorni l'argine sarà rinforzato in modo da consolidare le aree che sono abitate. Alla scoperta della conca di Cortina col trenino delle Dolomiti in luglio e in agosto. Ma dal Corriere delle Alpi passiamo al Gazzettino. In prima pagina il titolo principale riguarda la pandemia. Variante Delta, stretta di Zaia. Richiamo ai direttori ULS fare almeno 30.000 tamponi al giorno. Gli esperti pronti a zone rosse localizzate. Il tema viene approfondito in seconda pagina. Variante Delta, Zaia ordina. Ogni giorno 30.000 test. Il presidente convoca i direttori generali delle ULS e detta i tamponi da fare. Potenziato il sequenziamento. I casi aumentano ma l'inglese resta qui. Preponderante. La mutazione al 16,8%. Per fermare i focolai, zone rosse localizzate. Le regioni, vaccini in ritardo. Draghi, non è ancora finita. I governatori confermano la carenza di dosi a luglio. Le prenotazioni slitteranno. Il premier teme l'effetto variante sulla ripresa economica e chiede all'Unione Europea di riformare l'EMA. Come si vede c'è speranza ma c'è anche preoccupazione per quelli che potrebbero essere gli sviluppi della nuova variante Delta ma anche per le condizioni organizzative. In particolare per quanto concerne la distribuzione dei vaccini che non sempre sono presenti nelle quantità attese. Cortina, il valzer degli hotel. Cristallo ha un fondo inglese. La famiglia Gualanti cede ad Atte Store l'albergo simbolo di Cortina e ne acquisisce altri tre. Il progetto è in rosadira, 270 camere in vista del boom per i giochi olimpici. A questo tema il gazzettino del nord-est dedica mezza pagina. Andiamo avanti per raggiungere le pagine dedicate alla provincia di Belluno. Il titolo principale in questo caso Immigrati si cercano altri 50 posti. Due bandi pubblicati giovedì scorso dalla prefettura. L'obiettivo è trovare disponibilità per l'accoglienza diffusa. La scadenza per le domande è la fine del mese. In agosto apertura delle buste. Non conterà solo il criterio economico. E la fotonotizia della prima pagina del gazzettino di Belluno. La frana esplode. Per Arolo è al sicuro. La sirena e il boato. Alle 13.30 di ieri è stata fatta brillare la frana di Perarolo. 10.000 metri cubi di detriti finiti sul torrente. Grazie a 600 kg di esplosivo. Le famiglie sfollate, 30 persone in tutto, tra qualche giorno potranno rientrare a casa. E a questo avvenimento sono dedicate le pagine 2 e 3 del gazzettino di Belluno. Ci sono anche delle foto con la sequenza che aiuta a rivivere il momento della esplosione. Al termine un sospiro di sollievo, tutto come pianificato, era l'unica soluzione. L'assessore regionale Bottacin ha seguito l'intervento sul posto. Non potevamo far scendere più materiale. Andiamo ancora avanti, sempre sulle pagine del gazzettino di Belluno. Tasse più basse nel bellunese. La proposta in Parlamento. La provincia come campione d'Italia. Il disegno di legge della Lega in Senato. Si tratta di una iniziativa che è stata presentata ieri. Il Recovery Fund è una nuova sensibilità. E è una nuova sensibilità. Permetterebbero di arrivare a una soluzione. Nel documento ci sono 7 articoli in cui vengono spiegati i vantaggi e come reperire le risorse. Il disegno di legge per l'istituzione di un'area a tassazione. Per l'istituzione agevolata è stato depositato in Parlamento dall'Onorevole della Lega Paolo Saviane che ha coinvolto tutti i senatori leghisti. Studenti volontari aiutano con il PC i nonni e gli adulti. Scuole in rete in campo. Il divario generazionale. Non gettate i vecchi computer. Vengono qui perché vengono sistemati e messi a disposizione da chi non li ha. Disponibili dalla prossima settimana 2.500 dosi di vaccino aggiuntive. Prosegue l'impegno per intercettare gli 8.000 over 60 ancora scoperti dalla vaccinazione in provincia di Belluno. E siamo sulla pagina di Feltre. Buoni spesa, una mamma 220... Scusate, buoni spesa, una manna. 220.000 euro in un anno. Il comune di Feltre tira le somme dopo un anno di sostegni a chi è in difficoltà per il Covid. Chiuso l'ultimo bando da 54.000 euro. Aiuti per alimenti, farmaci e detersivi. Video sorveglianza, telecamera in largo Castaldi. Giro di vite del comune per aumentare la sicurezza del centro. Manifattura Valcisbom 2020 con il vento in poppa. L'azienda archivia una stagione molto proficua, più 7,5% di fatturato. Per i primi mesi del 2021 segnato un ulteriore incremento del 50%. Arrivano i burattini in 18 paesi. Spettacoli fino a settembre. Iniziativa dell'Unione Montana a cavallo tra Bellunese e Marca Trevigiana. Ufficio chiuso per poste alternative complicate. La società replica la protesta del sindaco di Santa Giustina per il disagio causato. Paolo Malaguti domani ospite a Dolomiti Hub in quel di Fonzaso. Gite, yoga, bike. Sarà un'estate di natura e arte con vista lago in Alpago. Presentato il ricco programma di eventi messo a punto dal consorzio di operatori. Decolla al GAL il nuovo sportello. È una sorta di collegamento tra unione e montagna. Un altro cantiere dell'ANAS intervento a Castellavazze. Prosegue l'impegno per migliorare la viabilità sulla statale di Alemagna in direzione Cortina-Dampezzo. Il comune di Cortina e le regole alleate per l'estate dei ragazzi. In pensione 150 lavoratori. Piange la cassa solidale di Luxottica. Con la crescenza calano gli introiti del fondo welfare aziendale. Il bilancio in rosso di 20.000 euro per la richiesta di copertura sanitaria. Uno sbilancio ampiamente atteso vista la situazione provocata dalla pandemia. Canale d'Agordo. Sagra dedicata a San Giovanni. Domani si chiude. Ultimi giorni per assaporare le ricche proposte del menu. L'obiettivo degli organizzatori è restituire alla manifestazione lo smalto dei tempi migliori. Falcade, biker in quota. Apre la cabinovia che sale alle buse. E concludiamo con qualche notizia di sport. Tempesta polzotto. Eppure ci credo. Il progetto Fusione stava per perdere uno dei suoi soci fondatori più importanti. Ieri il dietrofront. In compressioni fisiologiche io sono sempre rimasto a bordo. Voglio che si riemi tutti dalla stessa parte. Ho fiducia nelle Dolomiti e ne ho sposato le ambizioni. Si tratta di una intervista realizzata dal Gazzettino allo sponsor del Sedico e del Belluno, scusate, che continuerà a sostenere anche la formazione di Serie D che si è formata dalla fusione del Belluno appunto con l'Union Feltre e l'Union San Giorgio Sedico. Memorial Dilli allo Zugno Tauro per 600 iscritti. In questo caso si tratta di una manifestazione di atletica leggera. In palio allo stadio di Feltre anche il trofeo in memoria di Seba Bortolin. Cortina Trail nel segno dei record di Spagna e Italia. In questo caso è Corsa in montagna. Lavaredo Ultra Trail nel vivo dalle ore 23 di ieri per i 1350 concorrenti della massacrante prova di 120 chilometri. Si chiude qui questa edizione della Rassegna Stampa. A tutti voi il più cordiale a risentirci.